Martin Sorrell l'ha spuntata, anzi il fatto che quest'anno solo il 22% degli azionisti di WPP si sia opposto alla maxiretribuzione da 43 milioni di sterline per l'amministratore delegato può essere considerato come una vittoria. Nel corso dell'assemblea del gruppo pubblicitario britannico, il manager ha risposto a quanti avevano giudicato smisurato il suo compenso, il doppio di quello del capo di Shell, con altri numeri, quelli del ritorno sull'investimento in un'azienda che Sorrell ha tirato su dal nulla fino a farla diventare un gigante con 180 mila dipendenti.